Sottoscritto un protocollo d'intesa tra il comune di Torre del Greco ed il nucleo di volontariato e di protezione civile dell'Associazione Nazionale Carabinieri Vesuvio Portici, con sede nella città di Portici, in materia di salvaguardia ambientale e di tutela del paesaggio. L'atto avrà la durata di un anno, con scadenza al 31 dicembre 2021. La proposta all'amministrazione comunale è stata guidata dal sindaco Giovanni Palomba e dall'assessore al benessere del cittadino Elen Ciavolino. Le finalità del protocollo, quelle di garantire, nell'ambito del territorio cittadino, una serie di attività che si articoleranno in azioni di intervento, rilevamento e segnalazione alle autorità comunali di abbandono incontrollato dei rifiuti in area urbana ed exurbana, rilevazione sul territorio comunale di discariche e scarichi abusivi e rilevazione di atti vandalici e di degrado nei parchi e nelle aree pubbliche cittadine. Eventuali anomalie di particolare gravità che dovessero essere riscontrate dagli operatori del nucleo di volontariato durante l'espletamento delle stesse attività saranno documentate attraverso rilievi fotografici oltre che attraverso apposite relazioni. Abbiamo voluto offrire le parole dell'assessore Elen Ciavolino un servizio alla collettività tale che possa incidere in modo tangibile sul benessere della vita dei nostri cittadini. Per un intero anno ci avvarremo della collaborazione di diverse unità dell'Associazione Nazionale Carabiniere Vesuvio Portici, che ringrazio per l'iniziativa propostaci, in modo da avere un monitoraggio specifico e costante dell'intero territorio comunale.